E noi possiamo offrire tutto questo. Dobbiamo farlo. Oggi possiamo realizzare quello che ieri sembrava impossibile. Perché abbiamo la competenza, le strutture, l'esperienza e una visione globale che ci permette di anticipare il futuro, rispondendo in modo efficiente alle esigenze di salute della persona. Per questo motivo prenderci cura degli anziani non è sufficiente. Perché abbiamo i mezzi e le possibilità per prenderci cura di tutte le persone attente alla propria salute. Abbiamo le idee, la voglia e gli strumenti migliori. E soprattutto un team di professionisti, attenti e appassionati, che ogni giorno mettono al primo posto le esigenze dei nostri pazienti, facendoci crescere, sempre. Diventando il più grande gruppo dedicato al benessere a 360 gradi. Gli specialisti della longevità. Non è semplice ottimismo. Pensare positivo non significa sognare, ma agire positivo per i nostri pazienti. E noi possiamo farlo. Perché possiamo contare su persone positive, qualificate, dinamiche. Possiamo farlo con te. Grazie a te.